Ragazzotti e ragazzotti benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi per voi un gameplay davvero succulento perché come avete visto dal titolo e dalla miniatura ho portato la signorina Queen Georgia direttamente al rank a Real, quindi il rank massimo delle ranked. A Georgia mancava davvero poco per raggiungere la Real e io mi sono impegnata così tanto per poterla portare ad Real che ho droppato due vittorie consecutive rimanendo da sola e quindi a dover clacciare in uno versus duo contro tutta la lobby. E questo ragazzi è successo appunto per due partite consecutive, infatti ho fatto un devasto e declatch veramente incredibili. Quindi ragazzuoli prima di cominciare con questo video mi raccomando subito un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e ragazzi aggiornamento importantissimo. Il primo d'aprile verranno resettati ufficialmente i rank all'interno della mia mappa uno contro uno, ciò vuol dire che potete nuovamente riniziare con la scalata per cercare di far parte della classifica mensile che permetterà ai vincitori di vincere uno dei seguenti quattro premi. Quello che potete vincere giocando la mia mappa uno contro uno che trovate il codice qui sotto è la richiesta domenica su Fortnite, l'abbonamento e il regalo sul mio canale di Twitch, il VIP e il regalo per un mese sul mio canale Twitch oppure vi regalerò il pass battaglia o una skin su Fortnite. Tutto questo se raggiungerete appunto entro la fine del prossimo mese il rank a Real e se farete parte della classifica della top 5 del mese, vincerete uno di questi quattro premi a vostra scelta. Oltre al fatto che la gioco tutti i giorni in live sul mio canale Viola, quindi avete la possibilità anche di sfidarmi e mettervi in gioco. Quindi ragazzoni cosa aspettate? Questo è il codice della mappa uno più uno, rankate, allenatevi, diventate sempre più forti, così che potete battere sempre i vostri amici in uno contro uno. E come ultima cosa, se volete supportarmi nello shop di Fortnite vi basterà utilizzare il codice creatore CROATOMIST e se mi taggate in una story se ve lo andrò a ripostare e vi manderò anche un messaggino in privato per ringraziarvi. Grazie a tutti coloro che decideranno di supportarmi. Ora ragazzi però non prendiamoci in chiacchiere e io vi auguro una buona visione. La chicca ti voglio... Mi devo incasellare, mi devi casare, me la casi? Io non ti cazzo, dico che se non ti invegli la Real tu oggi non lo fai. E ti dico questo. Perché metti caso che arriviamo rivicino e mi muore la vincola sola è brutto per il canale, devi fare un video bello per il contenuto. Sì, è un contenuto videoludico. Un po' di cecchinato, un po' di robette, bim, bim, bim. Un pumpao. Ci vuole, dai. No, potresti dirmi un qualcosa che mi gasi proprio, capito? No, che cazzo, non ti posso casare, che dopo quella cosa che hai fatto in start di pompa sono ancora un po' scandalizzata. Che capivo. Ti giuro, ti giuro quella... Così io lo faccio, tu mi piace niente. Ti giuro quella lì me la sognerò stanotte, te lo giuro. O sono nel... Bunker, bunker, sono qua nel bunker, sono loro, sono loro, sono loro, sono loro, sono loro. L'hackinger qua. 25 la Reson. Uno ancora nel bunker. 25 blu la Reson, 25 blu la Reson di nuovo. L'altra che schiena è? Sono, mi sto a doppia Reson. Craccata la Reson, craccata la Reson, craccata la Reson, la buscia di impulso. 48, qua l'altra. Bombata. Arrivo, dammi un secondo. Va via. Verso dove? Là. Vado. Tranquilo, lo uccido. Craccata, distrutta. White. Però se stai la mente continuando la tua... Comunque la fine che arriverà comunque per te. Cioè, just for info. 55. Cioppo. Distrutto. C'è un altro che spara. 69 a quest'altro che è arrivato. Occhia l'altra, chicca. Craccato la skin qua da me. Però sono one hit anch'io, chicca. Devo farmi il big. Urgente. Dimmi che resisti da sola. Mortemio. Arrivo, 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 arrivo. Io resisto, io resisto. Io non muoio. Era una forfante bianca quella che ho craccato. Craccata la forfante bianca ma il pompa a scarico. Quindi devo fermarmi. Ok, fermati. Sono qua da te. Ah, nice. Ma era... L'hai uccita, no? Era l'ultima? Sì, tutte e due. Sono i Nike. Qua ora esce l'altro, occhio. Da dietro un altro team che spara. Da me? Davanti a caracca. Già, no. Full peace. Morto uno. Morti due. Vabbè, chicca. Va bene. Eh, questo... Questo è lo... C'è un altro che fa la guata, mi sa, perché ho visto passi a schermo per un secondo. 45. Questa qua. Con la rosa. Craccato. 29 white pure. Devo guararmi, devo guararmi, devo guararmi, devo guararmi. Dai, vai, sto con te, sto con te. 27, 22. 60, crack. Giorno di cecchino. 29 white. Craccato. Noccato. Noccato all'altro, noccati, 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 noccati. Va bene, io ho capito di fare altri. Oh, i botti, i botti, i botti, i botti, oh mio Dio. Ti sto aiutando, ti sto aiutando. Cioè, frate, sto morire più dai botti che delle persone, ma che sto vedendo? Stoppano. 45 da golf. Gioco in box, ITA. Craccata, crackata. One hit, one hit, era for fun. Ci sta. One hit, letteralmente. Sono nella box. Che due, cogli. Noccati, però. Quanto fa la zona, quanto fa la zona? Noccata, 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 noccata. Che cura hai, che cura hai, devi dammi tutte le cura. Noccati, kit, 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 tre kit, veloce. Tre kit, due big. Noccata una, la fa rest per... Eh, non ce la fai, fa rest per rest, la rest adesso. No, non ci credo, che sfiga di m***a, però. Oddio, 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 oddio. Oddio, se ne va, non ci credo. Godo, ho fatto una kill su TikTok Billy. Però. Odio, siccome ero un idiota, Nick. Ok, lui c'è che nata, è che c'era il timpolo bastardo, esatto. Va bene, chicca. Testi per settentare l'aiga addirittura, però quello lì potrebbe farti un agguato, se non lo senti, un problema. Merda. 300 mazze basta, eh, di ferro. Uno ha usato l'animella, occhio. Vai pull, è indietro, guarda te. Oddio, god. Oddio, oddio. Io lo dico, ciao YouTube. Io lo dico, ciao YouTube. Ehi, terbero, ricorda. Cioè, ragazzi, ma chi sono? John Lennon, Michael Jackson, Amy Winehouse. Dio, dico il Dio. Potrebbe essere il game della real, sì, perché devi fare 7 punti, 7%, no? Sono qualche kill e win, oppure troppissime kill. Troppissime win, eh? Sì, vabbè, lascia perdere, un po', capito, un po' l'ansia, l'agitazione. Ok, DMR, dov'è? Uno nel bush numero... 96 in testa! Oddio, dove? Queste sono scafatissime, eh? Sì, chicca, doppio 96, white. Cerchiamo di ruotare fast, andare a prendere sti vasta... Avesse avuto il DMR blu, era morto, perché il 96 non era il 96. Esatto, io idem, vero. Che l'abbiamo lasciati tutte e due con 4 di vita, è allucinante, sarò qua questi qua, ringrazio Dio. Sono lì da reboot, reboot, clicca! Pusciamolo. Non facciamolo rebootare, proprio fagiamolo. Eccolo a cui dato la coroncina e l'ho, vi ho preso il coso? Sì. Insomma, ho già rotto il cazzo, te lo dico. Sì, comunque va. Impulso in bocca, impulso in bocca. 46? Dov'è? Non lo so. Fa giù. Fa. Sono da te. Super kit. Pirontanotto. Non avrà white. Bravissima. Ho white io. Ho due kit. Ho lasciato un flop per bianco. Sto bene che ti dichiarà. Venissero ancora. 105? Frate, come non era headshot? Mi ha bloccato uno. Blocato! Mark uno! Ma! Bravissima. Al bunker c'è gente, eh? Va bene, però. 20? 20? Arriva il team. Ok. Ok, ok, ok. Sei giù, sei giù, sei giù. Hai mini, hai mini, mini? No, 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 quello è scudo. Zero. Vabbè, no, hold e basta. Sotto 30, la Lara. Ancora da te? 28 l'altro. 65 al tipo. La Lara è qua. È sotto, è nocata. Quaite? Bravissima. Vieni, vieni, prendi. A mini? No, non c'è la cura scelta. Dove sta l'altro? Non lo so. È sotto? Ok, sì. Non riesco a rinforzare, non riesco a rinforzare, non riesco a rinforzare. No, no, no. Devi giocare sicuramente, tu chicca. Sì, vai, 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 tu vai. Sono con te io, calcola. Ok. Va bene. Ricordo che sei white. No, è neanche mazzo. Quella brutta fa, me lo ricordo, da fa bene di essere white. È lì dentro, occhio. Non ci posso credere, ci sono anche mini. Oh mio Dio, Martina. Sei 1v1. Oh mio Dio, Martina. Oh mio Dio, Martina. Sono infermabile. Mi dici cosa c***o hai oggi, me lo spieghi? Ma è che cosa buono, non lo so, ragazzi. Let's f***ing gooo. Continuo o non continuo, zia? Potresti aver fatto la real così, io te lo dico, eh? Potrei aver fatto la real senza fare un c***o. Oh, zio, 99. Zia, sono arrivata a real senza fare una sega. Cioè, proprio io non ho fatto niente, sono a real senza fare niente. Guardi. Guardi.